Riconoscimento ufficiale dell'amministrazione comunale di Ponte Cagnano-Faiano per il vignettista Agostino Longo. Il sindaco Lanzara ha consegnato una targa al disegnatore esprimendo le più vive congratulazioni per il tratto moderno e riconoscibile, per il mordace stile umoristico e per i molti successi professionali che rendono orgogliosa l'intera città. Longo, classe 1976, collabora con molte case editrici italiane, studi pubblicitari e privati. Per me è un piacere e un onore stare qui a ricevere questo premio dal sindaco. Io sono un vignettista che collabora con tantissime riviste a livello nazionale e mi chiamo il vignettista dei Cruciverba perché chi è amante delle riviste di enigmistica e giochi di enigmistica può vedere i miei disegni, le mie vignette e svariati giochi illustrati. Oltre a disegnare come vignettista per questa tipologia di riviste io faccio anche illustrazioni per riviste per ragazzi è tutta una serie di lavori che fanno parte del mondo dell'editoria e della cartotecnica. Dove trai ispirazione? Qual è la tua fonte di ispirazione principale? Le idee nascono documentandosi, osservando e leggendo molto. Ovviamente io al mese devo realizzare tantissime vignette e cerco di spolverare anche tantissimi libri di barzellette e poi le trasformo in vignette. E' una passione che ho avuto da bambino e poi è diventato un lavoro. Progetti futuri? C'è qualcosa in cantiere che ci puoi anticipare? Progetti futuri? Sto cercando di realizzare un libro insieme ad un amico sceneggiatore e diciamo che insieme stiamo vedendo anche di trovare un editore disposto a pubblicarci questo libro di strisce. L'ideale sarebbe quello di pubblicare anche per l'estero. Infatti uno dei nostri obiettivi è quello di realizzare qualche prodotto per il mercato straniero.